La mancata intesa per l'accordo con i medici di famiglia nasce dalle resistenze della regione che non sente ragione sulla necessità di investire in modo adeguato per garantire supporto amministrativo ai medici. Di questo passo diventa chiara l'intenzione di far morire la medicina territoriale. Con queste parole i consiglieri regionali del Partito Democratico, Anna Maria Bigon e Andrea Zanoni, non usano mezze parole e vanno all'attacco della regione che, come hanno dichiarato in un comunicato, rischia di far morire la medicina territoriale. Di che cosa stiamo parlando nello specifico? Semplice. Alla regione, affermano gli esponenti DEM, arrivano disponibilità economiche che non sono spese per intero, visto che mancano circa 600 medici. Si tratta di milioni di euro che possono essere investiti per migliorare la sanità e il lavoro dei medici, ad esempio fornendogli supporto amministrativo per velocizzare e migliorare il loro servizio ai cittadini. Far saltare l'accordo integrativo con i medici di famiglia vuol dire mortificare la medicina territoriale. Concedere solo 7 ore settimanali di supporto amministrativo, quando il minimo necessario richiesto è di 14 dei stessi medici, vuol dire veramente non volere investire nella medicina territoriale a favore dei nostri cittadini. I medici hanno un carico burocratico enorme e per questo hanno bisogno di un supporto amministrativo. Le 14 ore sono il minimo necessario. La politica DEM promette dunque un duro attacco alla regione per mettere in condizione quei pochi medici che rimangono di lavorare e tutelare la salute dei cittadini. Il rischio già in corso è che il Veneto sia destinato a scendere ulteriormente nella graduatoria nazionale.